Storicamente attenta la sicurezza dei propri lavoratori e adotta soltanto attrezzature certificate. Omso collabora da oltre dieci anni con A per A per la fornitura di gru a sbalzo, zavorrate e mobili. Le gru a sbalzo A per A vengono abbinate alle macchine Omso come primo impianto per la movimentazione dei blocchi presso i clienti finali in tutto il mondo. In questo caso stiamo lavorando su una macchina per la stampa su flaconi di plastica diretta negli Stati Uniti. Quello che apprezziamo delle gru a sbalzo A per A è la capacità di lavorare con efficacia negli spazi stretti e la qualità costruttiva di tutti i componenti. Grazie 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 Grazie